musica ciao ammeli, in un episodio di cryo finale ahahahah cazzo ridi che domani muore è probabile, cioè da voi stai risolando proprio ooooh oggi mi sento molto molto bene cazzo, quindi niente paura aspetta che ci stanno a te, ci stanno a te vabbè, vabbè, non ce l'ho finito ma vabbè, non ce l'ho finito ma ce l'ho ancora il... si ce l'ho si apre si apre ma cazzo si ringa eh vabbè, non ce l'ho finito, devo salire solo tu non ce l'ho finito tu no, buon bacio tu un bacio, buon bacio ma ce l'ho qua il buon bacio si, si come hai fatto? fa grrrr fa che ho fatto brrrr tu non sai fare brrrr no no oh, brrrr ma c'è una brrrr di qua bug ma quanto? sembra che eri 60 non ti amo uuuh cazzo in modi vivuti e quindi? non posso metterlo? ahhh pentole no? Giorgio Mastrota è stato qui il diavolo fa le pentole e Mastrota le pelle no è l'ultimo gioco uuuuh colpi uuuuh una tazza gay rossa uuuuh una tazza uuuuh chissà che cazzo puoi fare con quella tazza ah no è rosa gay è rosa, è rosa gay è rosa gay è rosa gay secondo me ok, non devo andare qua t uuuuh uuuuh buono, geronimo qua qualcosa cos'altro colpi oh, questo è buono Simon t ok, cosa fa il salto il salto della fede 3, 2, 1 uuuuh 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 stiamo andando giù ok ehm c'è una scala c'è una scala no, non cadere, non cadere c'è una scala c'è una scala ok ok e muuuuh esplodiamo il corpo umano cosa cazzo qua l'animale uuuuh guardalo fermo così no? e devi stare fermo uuuuh non so, sembra sembra gollum versione flash fire uuuuh crepa uuuuh è crepato amen uuuuh uuuuh posso uscire? non cadere giù uuuuh un caricatore l'M16 dov'è l'M16? oddio l'M16 che sta l'M16? ma che hai fatto raccogliere proiettili per un'arma che io non ho? vabbè è l'M16 l'M16 beh mi sa che qua devo fare un salto della fede vabbè non c'è fatto che è agile c'è qualcuno qui? c'è l'M16 però no no anche se uuuuh guardalo è qua dietro ma ci puoi farci di un bordo? un'altra cosa si ma lo posso mirare no? ma che cazzo è? l'ho beccato? chissà se è morto no eccolo dimmi no no ma io ma io la mette BAMMA è morti la mano perchè non muori ancora? ma perchè gli sparisce man mano che lo sparo? se sparo sparisce no? ma ah 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 ma tu sei? guarda che oh che cazzo se noi stanno sparando è qualcosa che ti spara... è l'uomo letto eh è l'uomo letto che lotta contro i letti infatti dove cazzo sta l'uomo letto? ah ah ciao uomo letto ah sono andato giù esattamente l'uomo letto mi ha fatto emozionare ok ok siamo vivi minchia allora ho visto prima dei proiettili qua minchia eccolo altro salto della fede è tutto brutto ma non c'era una qualcuna giù un altro caricatore si uno giù da quello che è morto eh ah ok era l'uomo crepato un uomo crepaccio ah no no non fa ridere eeeh vabbè secondo me devo andare piano piano di qua si c'è una scala lì ah si non cadere giù saccio ok non cadere giù cazzo ok ok mi sono leggermente visciato addosso ma io invece capissavo morto si tratta che andava è morto morto è morto è morto è stato assassinato è assassinato è morto eeeh eeeh salve un'altra scala non lo sai e oggi sono uno delle scale ma se lì ne abbiamo casomai ahahah manco pezzo manco per il pene oddio ciotta ciao george sophie ah questa è quella di nostra città ah questa è quella di nostra città oh hi simon oh che io non 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 capisco nulla ora pure io cosa è che non capisci cosa pensi che città città la città città con monstri e io mi chiedo subito ti puoi si tratta sui tanti che stai qui ci stai 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 come stai 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 Oh oh! Come è terra! Ehm... Chi sa come finire. Eeeh! Stando tanto solo! Stando tanto solo! Ma stando tanto? Ma stando tanto? No, non capisco veramente cosa stai parlando. Non mi puzza questa comunque. Secondo me... Pensando? Sì, ho fatto molto di questo anche. Ho pensato tanto anche lui. Do you remember how you got here? Ma c'è una scuola? No, perché... Ho scusato me stesso, ma non era in un allie. Sì, non mi ha detto a due, lo so. Sì, non mi ha detto a due, lo so. Mi ha fatto un cazzo. No. Hush, Simon. Possiamo solo sentire qui per un tempo? Mmm, sentiamoci un po'. Sì, sicuro. Sì, sicuro. Ma che vitalità! Mmm, sì, sentiamoci, dai! Oh, mmm, mmm, mmm... Eccoscio provocante! Mammella H! No. Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Sì, 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 sì! Ti banno, eh! Ti banno! Veramente, ti banno! Eh, dicevo, ci stai... Fuori ci stai invasendo i zonghi. Fuori c'è l'Apocalisse, pensano allo scuolo. Sai, me l'avete stessa visto, quanto è matematica! Sì, sì! Dovevo studiare! Non devo giocare a graffi! Mi c'è! Oh! Mi c'è! Adesso si profonda! municipale! Particare se沒有 legion, Le 我 ci sono nelle percpo, Kau... Ma! Va... Non c'è! No! Te volete sfruttare! Ma perché volete... Très bene! axe! Sì! Sì! Sapporo! Si, non mi aiuto perché si è aiuto alla fine. Omoletto Anna skuola! ero una delle ragazze più bellissime a scuola e... non lo so... faccio vedere i tuoi shot, ragazzi! faccio vedere i tuoi shot, ragazzi! non lo amo io, ma credo io potrei, se potessi sapere bene, bene sei così bellissima, Sofie perché non hai detto nulla? non ho mai avuto la coraggio perché sono i zombie? come stava trovando? ero un'altra cosa assolutamente era il più difficile in scuola, ero? ma ora, siamo qui soltanto io sento... io sento... guarda per te... guarda per te la mano intorno alla spalla oh, Simon non so cosa dire ma sempre mi piace anche ma non in questo modo buttala giù buttala giù benzo Buttala giù, buttala giù, si è stato molto finito Buttala giù, una sfinta Buttala giù Ah, non ti senti bene per sentirti quelli Ma senti, mi faccio... Mi faccio bene, che... Buttala giù a questo zocco di merda Oh shit Damn, so much stuff has happened lately All this craziness The darkness and the monsters No, 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 no Why do you think I'm going crazy? I'm so glad I found you Sì, ma non te l'ha dato Sì, ma non te l'ha dato Ma che dialogo è entusiasmante? No, ma che cosa? Out here? No, fuori da tutto Fuori da tutto Dile, ho mi accaduto un centesimo No, full well, what I mean Wait a sec, you mean all the- NO! Sì, è maffanculo vai No, no Come no? Sì Ma te lo fa Crepa, mignotta E quando ci vuole ci vuole Why did she? Because she deserved it And fuck un po' che si ti dà della prendezza però... eh sì, lo so che cazzo è? sembra art! sembra drippa! che cazzo è? ma che cazzo è? guarda questa gnotta! ma che cazzo è? do you want to skip? no! ok, se metti si si butta giù devi dargli le caratteristiche ma tu non facessimo i caratteristiche aspetta un attimo come si faceva? devo stare con lo sniper dici tu ok è una pita mamma! un pita? mamma! che caratteristiche che sta vomitando? è il ciclo? che cazzo è? devo ricaricarlo non ti ha fissuto qua sta cosa perché essere bruttissimo ma non faccio per niente aspetta oh mira non so fermare ah, ferma, ferma, zoccola, fermati mamma! è una cosa rignante ma è sì sì sei una cosa che ricarica che bello è fio o no ma c'è ancora il colpito della Lorenza ha ancora il colpito dello shot ha ancora il colpito che c'è ok allora va bene va qui Sì Ma gli togli un cazzo Eh lo so ma non mi si è abicinato Ma non mi lo scelto Non mi ha abicinato Dici Sta vomitando l'anima questa tizia Vabbè Vabbè se è lei Secondo me quella che è buttata giù Ma dici che è lei Eh secondo me io Scusi un autografo per favore Che cosa c'è? BAM Oh che cosa? Era meglio da lontano secondo me Secondo me è meglio da lontano Ah sì è giusto No Ecco Fermano sì Bravissima Fermano sì Bravissima Fermano sì Ed è morta Guarda sì Aspetta aspetta Non spara l'altro One shot attenzione Forte Troppo one shot Salte ovunque Salte cioè come i ganguri Siamo tornati indietro All'appartamento dove abbiamo salvato Dove possiamo risalvare? Marco Salve Ah Mo' posso morire mille volte Siamo ancora Blood of the Virgin Mary Oh my god Siringa non è che ti vuole sparare un random così No? Siringa 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 per tutti Perché povera che resta qualcuno? Ma no perché non provi di qua? No non funziona Anche E non lo so E' sempre così Scenso Ma una posta è rotta Adesso no Non abbiamo visto No prima abbiamo visto Non va nessuno Non va nessuno Questa è la scensura Questa è qua? Questa è la scensura Questa è la scensura E questa può apareci Ah ok si Cioè con il biglino di qua Sono mai sono un branchietto Sono un branchietto Non è la penna No va Ah no è un fosso È un funzione Non è fungare Sì no D'impressione Fa quello che vuole attentarmi No eh E va Ok Almeno Questa è il risultato di tre Ma non si è grande Io mi armiro Una shotgun No No questo non è la shotgun Questo è la shotgun Di carico Ok l'abbiamo infilato Come si infilano Ma doveva andare a vedere La tizia è morta Eh sì Dobbiamo fare il giro Quindi Vaga non esca nessuno Non riprenda L'orologio non mi piace Sotto l'orologio La mattina Dice zombie Uccide del tizio Dice Il cazzo di pilastro Ok 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 Oh Questa è metterte una bomba Salve sì mi sa di sì ma no quanto dietro abbiamo tornato è un poco qua non ci sarà più niente a far stagliare qua va bene andiamo a affaccare in giro capito la ricarda con la porta che stava devi tornare devi andare dove ci stavano i tizi che gli spalavano con il letto gli spalavano qua c'è qualcuno o no? non c'è sicuro qualcuno che le musichette è da troppo perché non esce qualcuno ma perché le musichette capito sono armato di shotgun e non ho paura di usarlo attenzione ma si rimpiano un po' aspetta un po' di luce ma ci stanno mancano la minchia manca un po' di minchias che cosa è? ma il proiettivo? no a me non c'è qua non ci sta ah non l'abbiamo usato stiamo avanzando stiamo avanzando che emozione è pure ragione dimmi che c'è un punto di che cosa è un pataggio davanti a noi anche dietro di noi va bene non mi piace pure la nel mezzo mmmm da farlo buono oh nooo perché? mmmm ma questo ah fa un look ho caricato un saccale 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 da muro a buon bacio da muro a buon bacio ah 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 ahwa ah 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 oh è insomma è ver o io lì ah 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 Se l'avevi dato vi è piaciuto condividete, commentate, iscrivetevi al canale e raggiungete i preferiti. Ci vediamo al prossimo episodio di Graio Fian. Ciao per lì!